Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che mi dà Eden di presentare la nostra azienda. CreaCasa è un'azienda del gruppo Pocredem che si occupa ormai da tanti anni di distribuire mutui per la casa. I nostri clienti sono di svariata natura, sono i giovani ragazzi che cercano una prima abitazione, le famiglie, anche le persone della terza età che hanno voglia di comprarsi un primo, un secondo o un terzo immobile. Lavoriamo attraverso una rete di agenti monomandatari che operano su tutto il territorio nazionale in forte sinergia con la banca, con la quale abbiamo una relazione molto stretta che negli anni si è ulteriormente consolidata. Come dicevo, il nostro prodotto è il mutuo casa, quindi il nostro obiettivo è quello di realizzare un po' il sogno di tutte le persone, quello di poter avere una casa di proprietà che magari hanno sognato per una vita e attraverso CreaCasa poter realizzare questo grande obiettivo. Adesso abbiamo in corso anche tanti programmi di trasformazione, di sviluppo e di investimento nella nostra società, del quale non posso per motivi di riservatezza parlarvi ora, ma vedrete che nei prossimi sei mesi la nostra azienda cambierà ultimamente faccia, si occuperà di nuovi business, si aprirà nuove frontiere e spero che questa avvenga sempre insieme a Eden, con cui sono amici, con i quali condividiamo una grande passione che è quella della corsa, ma ritrovo nel mio lavoro tanti elementi che ci sono nella corsa, nel running, nello stare insieme, nello fare squadra insieme. Quindi in bocca al lupo a tutti e alla prossima!